e state qui con noi cosa c'è numero 25 un bacione alle nostre cubiste più belle che mai oggi ti saluto a tuo cugino Molinaro Andrea ti amo sulla numero 3 ragazzi siamo così all'arrivo riprendete i posti in macchina dai che si ricomincia Dani Chiara come stai Chiara Chiara come stai Chiara Chiara Grazie per la visione!